Buongiorno a tutti, porto il saluto del Ministro Di Maio, non semplice parlare dopo il Ministro buongiorno evidentemente, sarò telegrafico. Il Ministro Di Maio non ha potuto partecipare all'incontro di oggi per impegni che poi si sono evidentemente accavallati in queste giornate di intensa attività, ma ci teneva a rivolgere il suo saluto a questa platea così qualificata in questa occasione così bella di confronto sui temi che ci sono molto cari. Si parla di 5G e il Mise è al centro evidentemente di tutto ciò che riguarda lo sviluppo del 5G in Italia. Tra le prime iniziative che abbiamo adottato nel momento in cui ci siamo insediati c'è stata, come tutti sanno, la gara, un processo che abbiamo accelerato perché lo ritenevamo strategico per il Paese, non solo per esigenze di cassa evidentemente, ma perché è necessario continuare quello che è un percorso virtuoso che si è avviato proprio sul 5G. E come dichiarato al Ministro Di Maio faremo tutto il possibile per essere vicini agli operatori nella costruzione delle reti per il 5G. E osserviamo e monitoriamo con grande attenzione le sperimentazioni che sono in atto, compiendo anche tutti i passi necessari per accelerare quelle sperimentazioni, penso a Prato e l'Aquila, nelle quali si sono determinati dei ritardi per contingenze non dovute evidentemente agli operatori ma a questione di ordine più generale. Insieme al 5G abbiamo avviato, abbiamo riavviato una serie di progetti che noi riteniamo abilitanti rispetto anche allo sviluppo del 5G. E mi riferisco in particolare al progetto Wi-Fi Italia. È nel contratto di governo e quindi è per noi una priorità. È per la prima volta direi che un governo stanzia da subito 53 milioni di euro per realizzare, per completare il progetto Wi-Fi Italia. Un'altra iniziativa abilitante è il SINFI, dobbiamo anche cambiare il nome diciamo perché mi sembra un po' troppo tecnico, comunque il Catastro dell'infrastruttura del sottosuolo che è anch'esso una delle iniziative abilitanti che si erano avviate nella scorsa legislatura ma come tutti i progetti ambiziosi non era stato dotato di alcun budget e quindi sostanzialmente era un progetto rimesso al volontarismo sia dei tecnici del Ministero che dei tecnici di Infratel che dei comuni che dovevano conferire i dati. Ci siamo insediati e abbiamo scoperto che solo 6 comuni su 8 mila avevano conferito i dati al SINFI e quindi è evidente che oltre che 400 operatori su 900 obbligati. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo anzitutto stanziato 5 milioni di euro per creare una task force che dal Ministero aiuterà i comuni, i comuni che hanno più esigenze evidentemente quindi non Milano o Roma che ci aspettiamo con feris candidati senza la necessità di una attenzione da parte del Governo ma i piccoli comuni come anche si riferiva la Ministra Buongiorno saranno aiutati nel digitalizzare le proprie mappe e nel caricarle sul SINFI che è strategico tanto per gli operatori in quanto consente di pianificare in maniera più efficace gli interventi per la posa della fibra quanto per i cittadini che auspicabilmente incorreranno in meno disagi determinati dagli scavi per la posa della fibra e quanto per ragioni di sicurezza pubblica perché in caso di calamità naturale conoscere che reti abbiamo nel sottosuolo evidentemente può aiutare e in tempo reale può aiutare nei soccorsi e nelle iniziative di pianificazione. Sul piano Bull abbiamo anche lì dato un'accelerata trovandoci in una situazione nella quale il 9 di agosto abbiamo convocato il comitato per la banda ultralarga perché sostanzialmente rischiavamo di perdere oltre 200 milioni di euro di finanziamenti comunitari in quanto le regioni ci hanno segnalato dei ritardi nei problemi con la rendicontazione delle spese per ricomprese nell'ambito del piano banda ultralarga. Anche lì abbiamo creato un gruppo di lavoro presso il MISE e su richiesta delle regioni più in difficoltà con questa attività di rendicontazione il MISE pur non essendo tenuto evidentemente si è fatto carico di sostenere le regioni nella rendicontazione e diciamo incrociando le dita perché i dati ci stanno arrivando diciamo di giorno in giorno dovremmo aver recuperato o comunque non perso quelle risorse che evidentemente nel macro quadro delle risorse dei fondi comunitari che vanno rendicontati entro la fine dell'anno sono significative. Si è fatto riferimento immagino alla legge di bilancio anche lì nella prima versione diciamo nella versione consegnata alla camera vi sono 460 milioni di euro già adesso destinati all'innovazione con una serie di misure evidentemente che vanno dal fondo per la blockchain e l'intelligenza artificiale al manager per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nel percorso parlamentare queste risorse già nel passaggio alla camera sono state di fatto incrementate di 250 milioni di euro che abbiamo messo sulla formazione 4.0 ieri pomeriggio è stato approvato un emendamento di un parlamentare di maggioranza alla legge di bilancio attraverso il quale abbiamo prorogato di fatto gli incentivi di formazione 4.0 andando però anche qui a rimodulare le linee di intervento quindi il 50% di queste risorse saranno dedicate alle piccole imprese il 30% alle medie imprese e il 20% alle grandi imprese perché tra le iniziative del Ministro Di Maio e del Vicepresidente Di Maio vi è evidentemente la volontà di spostare risorse verso la platea di soggetti che al momento è rimasta in qualche modo esclusa comunque ai margini rispetto ai percorsi di digitalizzazione e quindi diamo alle PMI che sono poi gran parte del tessuto produttivo di questo Paese la possibilità di innovare attraverso risorse che concentriamo sull'innovazione sulla formazione e sulla sperimentazione in un percorso di dialogo con le PMI che è avviato e sarà formalizzato anche nel corso della prossima settimana come dichiarato dal Ministro Di Maio attraverso la creazione di un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico dedicato e incentrato alle piccole e medie imprese poi per concludere segnalo anche le iniziative che abbiamo messo in cantiere in questi primi mesi sia su un fronte internazionale che sul fronte nazionale in materia di tecnologie emergenti dopo anni di silenzio in sede comunitaria soprattutto sui temi legati all'intelligenza artificiale stiamo cercando di ridare protagonismo al Paese anche nel dibattito che si sta sviluppando a livello europeo attraverso una partecipazione ai vari tavoli e ai vari livelli sulla creazione di un piano coordinato europeo sull'intelligenza artificiale che sarà pubblicato a metà di questo mese e che in qualche modo costituirà la piattaforma europea con la quale le singole iniziative nazionali andranno a dialogare e sul fronte interno abbiamo concluso il processo di selezione degli esperti mise sull'intelligenza artificiale e contiamo di avviare i lavori sia del gruppo di lavoro su intelligenza artificiale che del gruppo di lavoro su blockchain al più tardi entro le prime settimane del 2019 e anche qui anche su blockchain e concludo abbiamo avviato un percorso che prevede da un lato la creazione di una strategia italiana sulla blockchain dall'altro e quindi capire che cosa c'è nel Paese su questa tecnologia capire dove c'è tanto in realtà c'era molto anche qualche anno fa in Italia eravamo di fatto avevamo le migliorimenti in materia di blockchain e registri distribuiti che negli ultimi tre anni sono andate all'estero evidentemente non trovando nel Paese una piattaforma nella quale cresce noi pensiamo di poter valorizzare quelli che sono rimasti e provare a riportare indietro quelli che sono andati via creando una strategia nazionale mettendo dei fondi già da subito nella legge di bilancio per avviare delle sperimentazioni su queste tecnologie e soprattutto guardando all'Italia come un Paese che può esprimere un protagonismo anche da un punto di vista regolamentare sulla blockchain ieri abbiamo firmato a Bruxelles una dichiarazione in ambito di MED7 quindi i Paesi dell'Europa e del Mediterraneo una dichiarazione nella quale abbiamo fortemente voluto da un lato l'inclusione di un impegno a favorire la conoscenza da parte dei cittadini di queste tecnologie perché evidentemente se non portiamo queste tecnologie al di fuori di questi consessi qualificatissimi quindi se non facciamo capire al nostro vicino di casa che cos'è la blockchain, a che cosa può servire evidentemente falliamo quello che è il nostro compito e dall'altro in questa dichiarazione abbiamo fortemente voluto un passaggio sulla costruzione di un quadro regolamentare anche su blockchain che consenta agli operatori di avere una regolamentazione che sia light, che sia abilitante quindi che non ingabbi la tecnologia ma che consenta agli operatori che lavorano su questa tecnologia di avere un minimo di punti di riferimento e soprattutto considerando la natura della blockchain che cosa comporta il superamento degli intermediari e quindi di qualsiasi intermediario evidentemente non può non passare attraverso un minimo riconoscimento giuridico di ciò che avviene attraverso quelle tecnologie per dare certezza sia nella circolazione in realtà che poi nei rapporti che si sviluppano attraverso l'utilizzo di queste tecnologie io vi ringrazio e auguro un'ottima prosecuzione dei lavori